Allora in questo video parliamo di assicurazione sanitaria del cane del gatto, quanto è importante averla nel 2021, cosa guardare nell'assicurazione e quindi cercherò di fare un video per aiutare i proprietari di cane del gatto a scegliere l'assicurazione sanitaria migliore e spiegare quali sono i punti di forza di un'assicurazione e perché sarebbe molto importante averla. Allora partiamo subito con una piccola premessa, l'assicurazione sanitaria non è l'assicurazione RC, cioè quella che molti proprietari hanno, molto spesso inclusa anche nell'assicurazione della casa, che fondamentalmente vi copre se il vostro cane fa un danno. L'assicurazione sanitaria è un'assicurazione che copre le spese medico-veterinarie. Fino a poco tempo fa era un'assicurazione, io la definivo un po' fuffa, si pagava poco ma quando poi era necessario utilizzarla si scopriva che praticamente non copriva nulla. Effettivamente c'era una serie di patologie che fondamentalmente non venivano coperte. Adesso stanno uscendo dei prodotti di diverse assicurazioni che invece sono molto interessanti, molto interessanti perché prima di tutto coprono diverse patologie, non più veramente delle rarità e quindi sono degli strumenti che possono essere utili a tutti i proprietari per evitare di incorrere in conti salatissimi. La medicina veterinaria è privata rispetto alla medicina umana che invece in Italia è pubblica e quindi molto spesso i proprietari di cani e gatti non sanno minimamente i veri costi della medicina. Mentre invece nei paesi per esempio anglosassoni o negli Stati Uniti si è ben consapevoli dei costi della medicina. Dei costi sia da parte di chi deve usufruire della medicina ma anche di chi deve farla perché chiaramente anche noi medici veterinari che siamo dall'altra parte sosteniamo dei costi importanti per poter diagnosticare le patologie e poi curare le patologie dei vostri animali e quindi tutti questi costi sono importanti per tutti, per noi e per voi. L'assicurazione è diciamo uno strumento che può aiutare noi medici veterinari a svolgere il nostro lavoro nella maniera più corretta possibile e può essere uno strumento importante per il proprietario perché ripeto stanno uscendo dei prodotti che coprono fino all'80% della spesa, molto spesso hanno delle franchigie magari di 100 euro ma poi coprono fino all'80% con massimali anche di 5.000 euro. Quindi immaginate, facciamo un esempio stupido, una spesa che magari si aggira a 2.000 euro con un'assicurazione che copre l'80% con una franchigia di 100, vuol dire che 100 euro li spendete, 1.900 facciamo l'80%, cerchiamo di semplificare, quindi sono mediamente su una spesa di 2.000 euro magari il proprietario va a spenderne 500. Ora è uno strumento importantissimo soprattutto perché quelle cifre magari le raggiungi in situazioni magari in cui il proprietario effettivamente deve prendere delle decisioni nel breve periodo perché magari il cane rischia la vita. Quindi è molto importante cominciare ad informarsi su queste assicurazioni, su questi prodotti e utilizzare il vostro medico veterinario di fiducia per capire qual è il prodotto migliore per il vostro animale e per il proprietario. È molto importante leggere tutta l'assicurazione per capire quali sono i vantaggi e quali sono i svantaggi, cosa copre, cosa non copre. Molto spesso la maggior parte delle assicurazioni non coprono se l'animale ha già più di 10 anni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io l'ho assicurato a 7 anni poi a 10 anni non mi copre più? No, vuol dire che se io la prima volta che stipolo l'assicurazione a un animale di 11 anni non me la stipulano, mentre invece se io la stipulo a 7 anni poi la stipulo a 8, poi a 9, a 10 e poi continuerò a stipulare e lì sarò coperto. Quindi è molto importante leggere bene tutto il foglietto diciamo illustrativo dell'assicurazione per capire quali sono i pro e quali sono i contro. Capire se conviene magari risparmiare 50 euro all'anno ma avere un massimale inferiore. In base a tutte queste situazioni è molto importante stabilire un dialogo, ripeto, anche col vostro medico veterinario, avere una consulenza sul tipo di assicurazione in modo da sapere cosa copre e cosa non copre. Molte assicurazioni coprono alcune patologie importanti anche molto costose, altre invece no, le escludono. Quindi vedere quali sono le esclusioni. Tutte informazioni che è molto importante conoscere per evitare fregature. Molto spesso la maggior parte delle assicurazioni hanno un periodo da quando si stipula in cui fondamentalmente non coprono, proprio perché non vogliono che il proprietario, conosciuto il problema del cane, assicuri il cane per poterlo curare immediatamente. Quindi è molto importante sapere quali sono i periodi in cui l'assicurazione, tra virgolette, potrebbe attaccarsi a tutto pur di non pagare. Ci sono assicurazioni che a volte chiedono sei mesi da quando si stipula la prima volta, poi ovviamente non tutte le volte sei mesi. Quindi è molto importante informarsi perché più andremo avanti più sarà uno strumento importantissimo per ogni proprietario di cane e gatto. Perché ovviamente a noi richiedono sempre standard maggiori giustamente per migliorare sempre di più le cure dei vostri animali. Purtroppo però i costi chiaramente sono elevati quindi bisogna chiaramente cercare un modo di abbatterli e l'assicurazione sanitaria è un ottimo modo perché ci permette, ripeto, a noi di lavorare focalizzandoci sul problema e quasi mettendo in parte il fattore economico. Il proprietario permette anch'esso di focalizzarsi sul problema e avere uno strumento economico che lo aiuta ovviamente a sostenere le spese veterinarie. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.